Prima di avviare il video, ti voglio ricordare di premere il pulsante per iscriverti e di lasciare un like. Grazie. La verità riguardo al caso della morte di Liliana Resinovich, la donna che è scomparsa dalla sua casa il 14 dicembre 2021 e è stata trovata senza vita il 5 gennaio 2022, è ancora tutta da scoprire. Oggi, durante la trasmissione di Mattino 5 su Canale 5, è stata trasmessa la testimonianza di Adriana, un'amica di Liliana, che ha cenato con lei e con Sebastiano la sera prima della scomparsa della donna. Adriana e suo marito hanno cenato insieme a Liliana e Sebastiano, oltre ad altri amici, quella sera. Durante l'intervista rilasciata a Mattino 5, Adriana ha raccontato che Liliana sembrava diversa dal solito quella sera. L'atmosfera era tesa e strana, Liliana non era felice, ma sembrava un po' triste. Sebastiano non sembrava contento della loro presenza a cena, Liliana era seduta accanto a Adriana che l'ha osservata e ha colto un momento di profonda tristezza e disagio nei suoi occhi. Liliana non era solita condividere i suoi problemi, li nascondeva. Adriana ha anche parlato del comportamento del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, dicendo che sembrava essere sempre lui a prendere le decisioni su cosa fare e dove andare. Alla domanda se come amici abbiano considerato la possibilità che Sebastiano abbia fatto del male a Liliana, Adriana ha risposto che sì, è una domanda che si sono posti, ma le sembra difficile pensare a una cosa del genere.